Mi chiamo Letizia Gasperini Sono un assessore del comune di Civita Castellana Con grande orgoglio che il comune di Civita Castellana aderisce al movimento per i diritti della natura Diventa il primo dei comuni a livello europeo che faranno parte di questo percorso Intanto noi come amministrazione abbiamo fatto già un percorso Noi partiamo dalla ricerca di far riconoscere il monumento delle forre, il dio distretto E tutta una serie di iniziative, contratti di fiume E tutta una serie di iniziative che sono legate al territorio, all'ambiente E a tutto quello che può essere la salvaguardia della natura Per i nostri figli, per i nostri nipoti Possa diventare importante che la natura abbia, come ci è stato detto, una natura giuridica Quindi potersi difendere e poter essere aiutata qualora ce ne sia la necessità Per i nostri figli, per i nostri figli, per i nostri figli Per i nostri figli, per i nostri figli, per i nostri figli Per i nostri figli, per i nostri figli, per i nostri figli 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 Per i nostri figli, per i nostri figli, per i nostri figli